Ecco il secondo round dell'incendio che ha colpito il capannone dei cinesi qui a San Marco Gentile in Contrada, zona industriale. Ricordiamo sempre la regia affidata a Salvatore Peralino che spraita qua dietro di noi. Sembrava si fosse spento l'incendio ma come potete ben vedere c'è una nuova nube. Il fumo sale sempre di più evidentemente si è spento l'incendio e se ne è generato un altro non riusciamo a capire ma dalle immagini che vediamo già ci pare di vedere che è un incendio molto grosso. Filmini e poi ho visto su Youtube. Devo documentare, documentiamo. Come dicevamo prima sembrava si fosse spento ma siamo di nuovo alle solite. Il fumo è più forte di quello di prima. Come potete vedere già sono un paio d'ore che l'incendio è iniziato e ancora queste sono la condizione.